Punto ulteriormente a una domanda che mi è stata fatta da un iscritto contattato via email riguardo l'acquisto del prodotto Rogaine. Vi ho mostrato in un altro mio video che ho di disponibile il Rogaine. Mi chiedeva ma ci sono differenze, quindi voleva maggiori dettagli, maggiori delucidazioni se fossero delle differenze con il Rogaine. Ribadisco nuovamente il concetto. Regaine e Rogaine sono lo stesso prodotto. Entrambi sono commercializzati e prodotti dalla Johnson & Johnson. Non ho capito perché. In Europa viene commercializzato con la scritta Regaine, mentre solo negli Stati Uniti è commercializzato con il nome di Rogaine. Sono state tranquilli, è lo stesso prodotto, non cambia assolutamente nulla. Sia per quanto riguarda il principio attivo, che è la base del minoxi al 5%, che i principi inattivi. È disponibile, vi lascio il link del mio sito in descrizione, o mi potete contattare via email. Vi ricordo un'altra cosa, che i prodotti sono originalissimi, freschissimi, a lunghissima scadenza. Ragazzi, non vi fate troppe mentali, sono assolutamente lo stesso prodotto. C'è un altro mio video, scrissi alla Johnson & Johnson via email e mi risposero, pubblicai anche ciò che mi era stato risposto, e la Johnson mi ha detto chiaramente che si tratta dello stesso prodotto. Un'ultimissima cosa, se non mi sfugge, perché sono i migliori prodotti in commercio, Kirkland e Rogaine? Perché non è un caso che le cliniche che effettuano un trapianto per capelli, prescrivono dopo un trapianto, o il Rogaine o il Kirkland. Vi ricordo che i minoxil vanno utilizzati per lunghissimo tempo. Tutti cadono nell'errore che usandolo un mese o due mesi hanno ottenuto i risultati e tutto finisce là. No ragazzi, allora gli studi hanno dimostrato che l'efficacia dei prodotti a base di minoxil, la sua massima efficacia, quindi i massimi risultati, le otterrete minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, per poi continuare e non staccare. Per chi fosse interessato ai prodotti, vi lascio i link in descrizione del sito, dove poterli acquistare tranquillamente. I prodotti quindi vengono spediti a casa vostra, in genere in 24-48 ore, con il Corriere Espresso. Come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un like e di attivare la campanella, per rimanere sempre aggiornati. Ciao!